Grazie per l'introduzione, grazie a tutti voi per essere qui nonostante l'orario, quindi spero di mantenervi svegli, che è uno dei problemi a quest'ora. E io mi è stato chiesto di scegliere un testo dal quale prendere ovviamente delle parti e di parlarne. E ovviamente quando mi è stato chiesto le possibilità erano infinite, di che cosa parlare ovviamente che riguardasse ciò che a me interessa, le piante. Poi ho pensato che dovevo per forza celebrare questo straordinario personaggio che è Harry David Thoreau. Io non so quanto vi è noto chi era e che cosa ha fatto, ma vi riassumo velocissimamente qualche notizia su Thoreau. Thoreau nasce nel 1817 a Concord, negli Stati Uniti, ed è una persona che oggi potremmo definire una specie di proto-ecologista. Una persona però che a differenza di tanti proto-ecologisti fa delle sue idee la sua vita, cioè è un esempio vivente di ciò che lui ritiene sia giusto. E quindi scrive anche, ma in maniera diciamo molto sporadica, molto articolata, disorganizzata, moltissime cose, durante i suoi periodi che passa insieme alla natura. Perché Thoreau a un certo punto decide che lui deve vivere assolutamente fondendosi con la natura. E quindi nel 1840, più o meno, se ne va a vivere sulla riva di un lago Walden, dove costruisce la sua casetta, se la costruisce lui tagliando i tronchi, e vive lì senza assolutamente nessun tipo di ausilio della modernità. Ci passa due anni, poi ci ritornerà tante altre volte, e in questi due anni, come nelle successive visite, scrive delle straordinarie intuizioni su che cosa sono le piante, che è ciò di cui parleremo stasera. Prima di abbandonare la biografia di Thoreau, vorrei ricordarvi un altro libro meraviglioso che ha scritto e che è poco noto, si chiama Disobbedienza civile. In Disobbedienza civile Thoreau dice una cosa che oggi è abbastanza nelle corde di tutti noi, e che ha una lunga storia, che proviene addirittura dall'antica Grecia, ma quando lo dice lui, negli Stati Uniti è un'eccezione. Lui dice che le leggi non sono obbligatorie. Se una legge viola il diritto e la coscienza degli uomini, bisogna non rispettarle. E lo fa. Si rifiuta di pagare una tassa che lo Stato aveva imposto per finanziare la guerra messicana, che lui non approvava, e va in prigione per questo, poi si arrabbia anche col suo nonno, che paga questa tassa per farlo uscire. Ebbene, iniziamo a parlare, allora a leggere qualche cosa. Questi i brani che vi leggerò, e che poi saranno il presupposto per raccontarvi delle cose sulle piante, sono tratti per lo più non dalla sua opera più importante che è Walden o La vita nei boschi, ma dai suoi diari. I suoi diari sono rimasti inediti per lungo tempo e soltanto da poco sono disponibili. E quindi quasi tutto quello che vi leggerò proviene da questi diari. Allora, cominciamo con una sua osservazione che è molto in tema con il periodo dell'anno. In questo periodo dell'anno le piante cambiano colore. E scontriamo cosa scrive Toro a proposito di questo. I singoli aceri, che sono interamente di un rosso vivace, visti sullo sfondo di altri della loro specie, ancora di un verde fresco, o sullo sfondo dei sempreverdi, sono più memorabili di quanto lo saranno col tempo interi boschetti. Che bellezza, quando tutto un albero è come un unico grande frutto scarlatto pieno di succhi maturi, ardente in ogni foglia, dal ramo più basso alla vetta, soprattutto se guarda verso il sole. Quale oggetto più ragguardevole potrebbe esserci nel paesaggio? Visibile per miglia, troppo bello per crederci. Se un fenomeno simile si fosse verificato solo una volta, sarebbe stato tramandato alla posterità dalla tradizione, e infine sarebbe entrato nella mitologia. L'intero albero che matura così in anticipo rispetto ai suoi simili, conquista una singolare supremazia. Ricordiamoci questa frase, perché è abbastanza importante su quello che poi vi racconterò. Quindi, l'intero albero, che matura così in anticipo rispetto ai suoi simili, conquista una singolare supremazia, e a volte la mantiene per una settimana o due. Io mi entusiasmo nel vederlo sventolare lo stendardo scarlatto per il reggimento di forestali abbigliati di verde che lo circonda, e allungo la strada di mezzo miglia per esaminarlo. Un unico albero diventa così la somma bellezza di una vallata, simile a un prato, e l'espressione di tutta la foresta che lo circonda è subito più animata grazie a lui. Allora, immagino che tutti quanti voi, anche i più duri di cuore, si saranno qualche volta commossi di fronte ai colori degli alberi in autunno. Non tutti gli alberi, e non a tutte le latitudini, gli alberi cambiano colore. E quindi alcune specie, soprattutto, virano, producendo questi gialli, brillanti, dei rossi, degli arancioni, colori che spiccano moltissimo, come ci dice giustamente Toro, conquistano una singolare supremazia. A che cosa sono dovuti questi colori? Questa è una straordinaria scoperta degli ultimi anni. Quando io studiai all'università i miei primi rudimenti sui cambiamenti di colore, la teoria diceva che questi cambiamenti di colore erano molto semplicemente spiegabili con un riassorbimento della clorofilla. Cioè, si diceva, beh, gli alberi hanno delle foglie verdi. La clorofilla è una molecola molto preziosa, è molto energeticamente dispendiosa da produrre. E allora che cosa fanno le piante caducifoglie, cioè quelle piante che stanno andando a perdere le foglie in questo periodo? Beh, prima di perderle, qualche settimana prima di perderle, cominciano a riassorbire questa molecola così preziosa che è la clorofilla e lasciando trasparire quindi quei colori giallo, rosso e arancio che erano già presenti nella foglia ma che non si vedevano perché erano coperti dal verde. Questa era la teoria. Perché ve la cito? Perché come praticamente quasi tutte le teorie e gli studi che riguardano le piante, non era mai prevista una volontarietà, cioè una necessità, una scelta. E invece la questione è molto diversa. Si è scoperto qualche anno fa che questi pigmenti colorati non appaiono perché la clorofilla scompare, ma in verità sono prodotti. Cioè sono prodotti dagli alberi in quel periodo dell'anno. E allora, se ci pensate, questo è un paradosso. Per quale motivo una pianta dovrebbe produrre nelle foglie dei colori così brillanti poche settimane prima di perderle? Attenzione perché le piante sono estremamente parsimoniose con la loro energia. Non fanno le cose inutilmente, come pensiamo. Quindi perché? Come mai? Bene, il motivo reale è che questo colore che appare durante l'autunno è un messaggio, un segnale. Un segnale per chi? Questa è stata la prima domanda che ci si è fatta. Beh, ma se producono questa roba, ed è ovviamente un segnale, a chi serve e perché? Faccio un piccolo passo indietro per dirvi che le piante sono degli esseri estremamente comunicativi. Contrariamente a quanto possiate aver sentito o pensate, le piante si scambiano continuamente informazioni. Proprio perché sono stanziali, proprio perché sono sessili, questa sarebbe la parola corretta, cioè non si spostano da un luogo all'altro, hanno una necessità costante di scambiare informazioni con le piante vicine. E come lo fanno questo? Normalmente ci sono diversi sistemi, alcuni dei quali ne parleremo stasera, ma normalmente attraverso la produzione di molecole chimiche, volatili. Quindi emettono delle sostanze che volano nell'atmosfera e che portano dei messaggi alle piante vicine. Questo tipo di messaggio però è un messaggio diverso. non è un messaggio per le altre piante, ma è un messaggio per gli animali. Al che da questo punto di vista, le piante hanno una storia molto lunga di messaggi scambiati con gli animali. Pensiamo semplicemente all'impollinazione, ma anche in tanti altri momenti della loro vita, quando devono difendersi, per esempio, usano gli animali e lo fanno attraverso la produzione di messaggi. Ma in questo caso c'è una cosa diversa, è una cosa molto particolare. Questa colorazione autunnale è quello che viene chiamato un segnale onesto. Ora vi spiego cos'è un segnale onesto. Non so se avete mai visto quei documentari, ogni tanto si vedono, in cui c'è un particolare tipo di gazzella africana, si vede la savana, si vedono queste gazzelle, un classico dei documentari sugli animali, arriva un leone e queste gazzelle, invece di scappare via, cominciano a saltare sul posto. Fanno dei grandi zombie. Non so se le avete mai visti. Se non le avete mai visti, credetemi. Allora, e come mai ci si è chiesto, anni fa ormai, decenni fa, c'è questo comportamento apparentemente paradossale, come c'è un leone e tu ti metti a saltare, non è molto più conveniente sprecare quell'energia che hai per correre via? No. Cosa stanno facendo queste gazzelle? Stanno emettendo quello che si chiama segnale onesto. Che cos'è? Stanno dicendo al leone, di fatto, saltando tutte più alte che possono, leone, guarda come sono forte. Io ti ho visto, ma sono così forte che non me ne frega niente, continuo a saltare e ti faccio vedere che io posso sprecare tanta energia. E quindi, non venire da me, non predare a me, ma guardati intorno. E se vedi qualcuna che zompa di meno, e allora è lì che ti devi dirigere. questo è un comportamento ormai ben conosciuto. Beh, perché si chiama segnale onesto? Perché è veramente un segnale che l'animale manda al leone dicendogli guarda che io sono forte, io posso permettermi di sprecare tanta energia e tu non mi potrai prendere. Questo segnale onesto è un segnale che si ritrova dappertutto, anche noi uomini lo utilizziamo, anzi, noi siamo dei maestri del segnale onesto. Un diamante che cos'è? Se non l'esemplificazione del fatto guarda quanto sono forte, quanto sono potente, posso spendere, ti dirò, questo masso, posso spendere un sacco di soldi e la questione è che non mi cambia nulla, posso spendere tanta energia e quindi sposami. Perché io sono forte, io sono pieno di energia, è esattamente lo stesso tipo di segnale che viene usato dalla gazzella ed è lo stesso tipo di segnale che utilizzano le piante. Quali piante? Non tutte. Lo dice Toro qui, gli aceri, ad esempio. Come mai gli aceri hanno queste straordinarie colorazioni? Beh, perché gli aceri sono fra le piante più attaccate dagli afidi. E allora che cos'è questa colorazione straordinaria è un messaggio per gli afidi. Le piante producono questi colori, producono tanta, spendendo tanta energia nella stessa maniera in cui una gazzella salta per dire agli afidi che in quel periodo dell'anno stanno cercando il luogo dove deporre le loro uova non venire non venire da me che sto sprecando tanta energia in questa maniera ti faccio vedere quanto sono forte e quindi alla fine avrei la meglio anche sulle tue uova sulle tue larve ma scegli un albero che è invece meno colorato. Ed è esattamente ciò che dice Toro quando dice appunto che l'albero che matura così in anticipo rispetto ai suoi simili conquista una singolare supremazia. E' questo quello che vedete quando guardate un un albero che cambia colore. Lo dice di nuovo in una maniera ancora più bella in un altro passo in cui scrive ma ora salendo in una direzione diversa sulla stessa collina da cui ho visto le querce scarlatte le querce sono un'altra delle specie che ha questo problema e guardandomi in giro appena prima del tramonto quando tutti gli altri alberi visibili per miglia sono rossastri o verdi distingue il mio nuovo amico dal suo colore giallo. Vedete qui c'è un pioppo che invece cambia colore ne usa un colore diverso per sempre per rendersi visibile ha raggiunto la fama e la ricompensa per aver vissuto in tale solitudine e oscurità e l'albero che si distingue di più in tutto il panorama e agli occhi di tutti sarebbe il centro dell'attenzione è esattamente ciò che vuole la pianta vuole distinguersi da tutti gli altri alberi che lo circondano perché questo è un messaggio importante per i predatori per questi predatori che in questo periodo dell'anno cercano dove accasarsi e quindi una una prima identificazione del di una di un comportamento vegetale questi sono dei veri e propri comportamenti che chiaramente Toro descrive essenzialmente grazie alla sua capacità di osservazione della natura che è straordinaria lo vedremo ora in altri durante la lettura di altri passi e ne intuisce anche ne intuisce perché parla diverse volte di supremazia di di fama veramente utilizzando dei termini che oggi utilizziamo praticamente uguali per descrivere questo comportamento particolare ora cambiamo da un saltiamo come si suol dire di palo in frasca e andiamo a parlare di una cosa che ci riguarda invece molto tanto da vicino intanto leggiamo il passo breve quando desidero rinnovarmi vado in cerca del bosco più buio entro in una palude come in un luogo sacro là è la forza e il midollo della natura il bosco selvatico copre il terriccio vergine e lo stesso suolo è buono per uomini e animali attenzione perché ora dice la frase fondamentale la salvezza di una città non è dovuta agli uomini retti che la abitano più che ai boschi che la circondano una comunità sulla quale svetta una foresta primitiva che cosa che cosa credo che si possa intuire da questa da questa frase una città ha necessità dei suoi boschi più che degli uomini retti che la abitano e questo è un punto fondamentale oggi più importante che mai i benefici che le piante hanno in ambiente urbano non sono mai neanche lontanamente comprensibili ma sono enormi e ve ne citerò qualcuno rapidamente benefici fisici con il riscaldamento globale le nostre città sono sempre più calde e durante l'estate le ondate di calore saranno sempre più numerose qual è il consumo energetico più elevato delle nostre città oggi il raffreddamento degli edifici non è più il riscaldamento ma il raffreddamento e questo è vero a livello mondiale allora sappiate che le città sviluppano una temperatura che in media fra i 3 e i 4 gradi alcune volte si arriva a 5 gradi superiori rispetto alle loro immediate circostanti zone circostanti sono tanti e tantissimo gli alberi riescono ad abbassare questa temperatura cioè non direttamente non soltanto attraverso l'ombra come si può pensare ma abbassano la temperatura attraverso la traspirazione gli alberi traspirano e siccome il processo traspirativo è un processo endotermico cioè richiede calore abbassano la temperatura se pensate che un pioppo di dimensioni adulte un pioppo di 20 metri durante il periodo estivo è in grado di traspirare ogni giorno anche più di 10 metri cubi di acqua capite quanta è la potenza traspirativa e infatti e infatti noi sappiamo esattamente qual è il risparmio energetico che gli alberi la presenza di alberi induce in ambiente urbano poi gli alberi migliorano il ciclo delle acque oggi piove la stessa quantità di pioggia che cadeva negli anni passati ma invece che cadere in sparsa diffusa su dei mesi piove in pochi minuti o in poche ore o in pochi giorni e la conseguenza è che le nostre città si allagano i sistemi fognari non sono sufficienti a drenare questa quantità di acqua le fognature sono state quasi tutte prodotte per città che erano due o tre volte più piccole di quelle che sono oggi e sono le città completamente impermeabili cioè l'acqua cade e come cade arriva direttamente alle fognature le piante fanno da 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 buffer da spugna che raccoglie quest'acqua e poi la rilascia lentamente e se questo ancora non vi interessa perché potete pensare vabbè chi se ne frega vuol dire che ci facciamo qualche alleramento ogni tanto allora sappiate che non esiste questo dovrebbe interessare a tutti voi non esiste un singolo evento che abbia una maggiore effetto sulla salute delle persone che piantare alberi e questo non è un'opinione non è un un modo di dire ma nasce da serissime ricerche nel 1984 un ricercatore americano che stava studiando un economista che studiava tutt'altro stava studiando praticamente la l'efficienza di un ospedale americano specializzato nella rimozione della cistifellea questo ospedale rimuoveva soltanto la cistifellea e aveva 15 anni di dati riguardanti persone che erano andate lì dentro a farsi rimuovere la cistifellea quindi da un punto di vista statistico era abbastanza ideale si accorge studiando questo ospedale che c'era un'anomalia c'erano quattro stanze in questo ospedale in cui le persone che capitavano indifferentemente senza riguardi per l'età il sesso le condizioni eccetera chi capitava in queste quattro stanze aveva una degenza ospedaliera dimezzata rispetto agli altri ed erano molto più contenti e avevano minori problemi di tipo post-operatorio in generale in maniera statisticamente rilevante allora questo ricercatore comincia a chiedere per vedere che cosa era che caratterizzava queste quattro stanze ci sarà stato qualche dottore molto bravo degli infermieri molto bravi no tutto uguale al resto l'unica differenza è che queste quattro stanze avevano delle finestre che davano su degli alberi erano le uniche quattro stanze ora se voi pensate che questo che questo che questa ricerca non sia magari tanto seria innanzitutto sapete che è stata pubblicata su science e quindi non su un bollettino particolare e quindi diciamo su una delle delle riviste più prestigiose scientificamente rilevanti del pianeta e che nonostante questo ovviamente fece iniziare tutta una serie di domande di critiche com'è possibile che delle cose che stanno fuori dalla finestra c'è addirittura un vetro a separarle abbiano questo effetto bene ci sono state migliaia di ricerche dopo di allora che hanno dimostrato come la presenza di piante in ambiente urbano è la cosa che ha il maggiore effetto sulla salute delle persone voi sapete che c'è una diretta relazione fra reddito e salute nel senso che come è ovvio più una persona è povera più campa di meno i ricchi campano molto di più dei poveri questo è un dato di fatto inoppugnabile bene una ricerca che è stata fatta l'anno scorso ha dimostrato che piantare dieci alberi per isolato in Canada è il singolo atto che migliora diciamo questo divario fra ricchi e poveri in maniera significativa cioè piantare dieci alberi in un isolato equivale all'aumento di reddito di 20.000 dollari per le persone che abitano lì cioè la loro salute aumenta come se avessero guadagnato 20.000 dollari in più non esiste niente del genere che abbia lo stesso effetto vi ripeto sono serissime ricerche ve ne racconto un'altra negli Stati Uniti qualche anno fa c'è stata una 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 malattia dell'olmo si chiama l'abbiamo avuta anche noi ma negli Stati Uniti è stata particolarmente virulenta si chiamava grafiosi dell'olmo a causa di questa malattia in alcune zone degli Stati Uniti sono morte decine di milioni di alberi allora che cosa è stato fatto sono andati sono state fatte degli studi epidemiologici per vedere cos'era cambiato nella salute delle persone che abitavano accanto a questi a questi luoghi in in un periodo di tre anni quindi neanche tanto quindi l'unica cosa che era variata è che non c'erano più gli olmi ebbene la morte di questi olmi è la diretta responsabile della morte di 20.000 persone quindi 20.000 persone sono morte per cause cardiovascolari e c'è tutta un'altra serie di patologie legate direttamente alla mancanza di alberi poi volendo potremmo continuare sui problemi psichici e c'è una diretta relazione fra numero di alberi in ambiente urbano a parità di reddito quindi in questo caso il reddito viene tolto a parità di reddito la quantità di alberi in ambiente urbano è direttamente collegata con il numero di disturbi psichici inversamente ovviamente correlata con il numero di disturbi psichici il numero di suicidi addirittura il numero di crimini contro la persona state a sentire questa perché questa è straordinaria i parchi cittadini sono i luoghi più sicuri delle città nonostante noi siamo abituati a pensare ai parchi come dei luoghi estremamente pericolosi perché quando vediamo i telefilm americani c'è una signorina che corre nel parco e c'è sempre un maniaco che la vuole acchiappare nonostante questo nonostante questo i parchi nel mondo sono i luoghi più sicuri cioè sono i luoghi in cui avviene il numero minore di delitti contro la persona bene e poi infine perché questo è un tema estremamente rilevante il problema del riscaldamento globale grazie il il problema del riscaldamento globale immagino lo conosciate non si chiama cambiamento climatico si chiama riscaldamento globale cambiamento climatico è un'invenzione degli americani per dire che è una cosa che accade ogni tanto accade è vero è accaduta tante volte nella storia della terra ma mai in un periodo di un secolo in periodi che duravano milioni di anni quindi questo dimenticano sempre di dirlo quindi si chiama riscaldamento globale il riscaldamento globale è dovuto all'aumento dell'anidride carbonica prodotto dalle attività umane l'anidride carbonica è prodotta all'80% in ambiente urbano quindi tutta l'anidride carbonica del pianeta per l'80% proviene dalle città e le città rappresentano soltanto l'1,7% delle terre emerse quindi abbiamo questo paradosso in cui 1,7% delle terre emerse producono l'80% dell'anidride carbonica che a sua volta induce il riscaldamento globale dove va bloccata l'anidride carbonica nelle città le città sono il luogo in cui gli alberi dovrebbero stare dappertutto nella quantità maggiore possibile e dove si possono mettere anche dove non si possono mettere bisogna immaginare dei modi per metterli perché sono la singola operazione di nuovo che ha l'effetto migliore misurato modellato sull'abbattimento dell'anidride carbonica ora non è il momento di entrare in questo ma negli ultimi qualunque semplicemente vorrevo ricordarvi che qualunque protocollo internazionale da protocollo di Kyoto la COP21 eccetera non sono riusciti a muovere di un nulla l'andamento dell'anidride carbonica l'anidride carbonica aumenta tranquillamente sempre nella stessa maniera allora sempre sulla città dice a un certo punto nei suoi libri nei suoi diari anzi ho assistito all'abbattimento e per così dire al funerale di questo attempato cittadino io che di norma non partecipo ai funerali ma questo mi si addiceva ero forse l'unico a essere in lutto ho preso atto della sua grandezza ho pronunciato alcune parole di elogio alla sua tomba ma c'erano solo i taglialegni ai passanti a sentirmi non vi era altra rappresentanza cittadina i governanti della città gli assessori gli ecclesiastici non erano presenti eppure non ricordo di recente un'occasione più adatta per un sermone la sua storia si estende lungo più metà più di metà dell'intera storia cittadina poiché ai suoi simili non era facile intervenire sono intervenuto io ritengo che la sua caduta segni un'epoca nella storia della città ci ha lasciati insieme agli ecclesiastici della vecchia scuola e alla diligenza che gli passava rumorosamente davanti la sua virtù è stata di crescere con costanza e di espandersi un anno dopo l'altro fino all'ultimo quanta parte della vecchia Concorde cade con lui il segretario municipale non registrerà la sua dipartita lo farò io perché è di maggior momento per la città di quanto lo sarebbe quella di molti abitanti umani invece di erigergli un monumento facciamo di tutto per cancellare il suo troncone l'unico monumento di un albero di cui di solito si concede di restare un altro anello che ci regava al passato si è rotto alcuni olmi come questo basterebbero da soli a costituire una municipalità potrebbero pretendere di mandare un rappresentante all'assemblea legislativa perché curi i loro interessi se ne potesse trovare uno adatto un americano di nascita vero e valoroso con principi ecumenici la nostra cittadina ha perso un po' della sua vulnerabilità i nostri occhi non si poseranno più sul suo massiccio tronco grigio come un'immensa colonna corinzia al lato della strada non cammineremo più all'ombra della sua superba vasta chioma è come se avesse accostato l'ascia ai piedi di un venerabile avete accostato l'ascia avete legato il vostro paranco a una delle travi portanti della città sento che l'intera costruzione è compromessa non è forse un sacrilegio tagliare l'albero che per tanto tempo ha vegliato benevolmente su concord questo scrive però di nuovo vi voglio ricordare il momento nel 1840 siamo in un momento storico in cui l'idea comune della nostra relazione con la natura non è questa è più o meno quella che abbiamo ancora oggi ed è il fatto che la natura è qualche cosa che deve sottomettersi all'uomo diceva un famoso ecologo americano di quei periodi di quei tempi o noi sottomettiamo la natura o la natura ci renderà suoi schiavi questo era il l'idea comune della nostra relazione con la natura quindi in questo periodo sentite che cosa scrive Toro scrive una cosa che è estremamente rilevante in funzione degli alberi monumentali delle nostre città gli alberi dovrebbero essere protetti più sono grandi più dovrebbero essere protetti purtroppo nelle nostre città si fa tutto il contrario e questo è molto anche a causa nostra perché siamo preoccupati dalla caduta degli alberi gli alberi cadono e fanno danni ma lo sapete quante persone sono morte per la caduta degli alberi in Europa negli ultimi cinque anni venti voi direte tanti sì sono tanti ma sapete quanti ne sono morti per incidenti stradali siamo oltre due milioni allora qualcuno di voi ha mai sentito dire vietiamo le macchine e invece bastano questi rarissimi casi come dire non preventivabili perché tutte le amministrazioni europee ormai abbiano un'ossessione contro gli alberi anziani vengono tutti tagliati e poi viene raccontata la frottola che vengono rimessi nuovi è vero che vengono rimessi nuovi ma perché si raggiunga la potenza l'equivalenza l'effetto di un albero di 200 anni bisognerà aspettare 200 anni e questo mi dà anche il modo di parlare del tempo perché il tempo degli alberi non è il nostro tempo il tempo delle piante è uno dei motivi che ci impedisce di capirle una pianta ha una durata temporale che è molto diversa dalla nostra pensate che i più antichi organismi viventi del pianeta il più antico in assoluto è un abete bianco che vive in Svezia si chiama Old Ticco e ha 9.800 anni 9.800 anni vuol dire che ha accompagnato l'intera civiltà umana che si fa risalire a 10-12.000 anni fa quindi questo albero è lì da 9.800 anni ci sono gli alberi hanno delle durate che per noi sono incomprensibili e questo è uno dei motivi per cui noi non li capiamo perché i comportamenti di questi esseri si svolgono su dei tempi che non sono i nostri bisogna velocizzare il tutto per capirlo quando velocizziamo il tutto vediamo dei comportamenti straordinari i tempi e la loro organizzazione sono i motivi che ci impediscono di capire che cosa sono le piante vado velocemente verso la fine perché vedo dei grossi segni di cedimento nel pubblico io io voglio dire non penserete mica che non vi veda io vi ho tutti di fronte prima diciamo che qualcuno vorrei che qualcuno rimanesse diciamo in piedi e quindi vado velocemente a concludere con la lettura di questo di questo brano che è fondamentale strano che così poche persone vengono nei boschi a vedere come il pino vive e come sempre più in alto solleva le sue braccia sempre verdi alla luce a vedere la sua perfetta riuscita i più invece si accontentano di guardarlo sotto forma delle tante ampie tavole portate al mercato e considerano quello il suo vero destino ma il pino non è legname più di quanto lo sia l'uomo ed essere trasformato in assi e case non è il suo impiego autentico e più elevato non più di quanto lo sia per l'uomo essere abbattuto e trasformato in letame c'è una legge più alta che riguarda il nostro rapporto con i pini quanto quello con gli uomini un pino abbattuto un pino morto non è un pino più di quanto le spoglie di un defunto siano un uomo si può dire che colui che ha scoperto solo alcuni dei pregi dell'osso della balena e dell'olio della balena abbia scoperto veramente il vero scopo della balena o che colui che abbatte l'elefante per l'avorio abbia visto l'elefante questi sono utilizzi meschini e accidentali proprio come se una razza più forte attenzione questo è il punto proprio come se una razza più forte ci uccidesse allo scopo di fare bottoni e pifferi con le nostre ossa perché ogni cosa può servire uno scopo più vile oltre che uno più elevato ogni creatura è migliore da viva che da morta uomini e alci e alberi di pino e colui che lo comprende appieno preferirà conservare la vita che distruggerla e il boscaiolo allora essere amico e amante del pino a stargli più vicino di chiunque a comprendere meglio la sua natura è il conciatore che gli ha tolto la corteccia o chi ne ha ricavato la trementina a entrare nelle fiabbe dei posteri come colui che alla fine venne tramutato in un pino no no è il poeta è colui che fa del pino l'uso più sincero che non lo accarezza con un'ascia né lo sollettica con una sega che sa se il suo cuore è falso senza inciderlo che non ha comprato la licenza di abbattimento dall'amministrazione cittadina tutti i pini rabbrividiscono ed emettono un sospiro quando quell'uomo mette piede nella foresta no è il poeta che li ama come la propria ombra nell'aria e li lascia in piedi sono stato in segheria e in falegnameria e in conceria e alla fabbrica di nerofumo e alla raccolta della trementina ma quando da lontano ho visto le cime dei pini ondeggiare e riflettere la luce al di sopra del resto della foresta mi sono reso conto che non è quello citato l'uso più elevato del pino non sono i suoi ossi o la sua pelle o il suo grasso che amo di più è lo spirito vivente dell'albero non lo spirito della trementina con cui sono solidare e che guarisce i miei tagli è immortale quanto lo sono io e forse andrà altrettanto in alto in paradiso dove ancora svetterà sopra di me questa è una meravigliosa dichiarazione di amore per gli esseri viventi io vorrevo soltanto ricordarvi questo è il modo di parlare degli alberi quando qualche l'anno scorso c'è stata la tempesta vaia sapete quella che ha buttato giù tutti quegli alberi in in trentino fra trentino e veneto ho chiesto a tanti miei colleghi di sapere il numero di alberi caduti questa era la domanda che facevo si può sapere quanti alberi caduti ci sono sapete qual è stata la risposta unanime cinque milioni di metri cubi di legno questo è quello che abbiamo perso cinque milioni di metri cubi di legna non sappiamo il numero di alberi sappiamo cinque milioni di metri cubi di legna come se gli alberi avessero l'unica funzione di fornire il legno per noi questo è un punto fondamentale e con questo ora vi faccio un piccolo sermone col quale chiudo sono qui è meraviglioso questo pulpito perché le persone e l'aria dei tempi che sono molto simili ai nostri contro i quali si scaglia torro sono esattamente davvero gli stessi di oggi noi abbiamo un concetto della vita come qualche cosa che è lì perché noi la usiamo e perché da che cosa nasce questa idea nasce dall'idea che noi siamo meglio questo è io sono sicuro chiunque di voi chi è in questa sala che non si sente meglio di una mucca o di un olmo o di un fico o di un albicocco nessuno e mi sembra anche di sentire i vostri pensieri ora questo fricchettone mi vuole mi vuole dire che un olmo è meglio di me io noi uomini che siamo stati in grado di fare queste cose meravigliose abbiamo dipinto la cappella sistina abbiamo scritto la divina commedia i fratelli Karamazov la teoria della relatività come fai a dire che questo non ci rende meglio degli altri esseri viventi bene e io è proprio questo il punto che discuto io credo che questo non ci renda affatto meglio degli altri esseri viventi e andiamo a discutere il punto meglio è un'idea molto pericolosa è l'idea probabilmente più pericolosa che l'uomo abbia mai sviluppato perché nel momento in cui tu ti senti meglio di qualcun altro anche forse un'altra persona immediatamente la utilizzi se ti senti meglio sei di più e quindi l'altro è qualcuno che tu puoi utilizzare e questo vale per le persone come per gli altri esseri viventi ora io non voglio entrare nel merito della etica o della morale di questa decisione quello che vorrei che noi capissimo in questi pochi minuti che ci rimangono è la validità o meno di questa affermazione dal punto di vista biologico che cosa vuol dire meglio meglio richiede che ci sia un risultato che si deve raggiungere e che ci sia una misurazione dell'efficacia vi faccio un esempio se facciamo una gara di salto in alto e io salto un metro e mezzo e tu salti due metri beh tu sei meglio di me se facciamo una gara di corsa sui cento metri io corro in dieci secondi e tu corri in otto secondi non esiste ma insomma tu sei meglio di me è semplice c'è un obiettivo e c'è una misurazione in questo caso si può dire io sono meglio a saltare sono meglio di te a correre sono meglio di te ma nella vita qual è l'obiettivo della vita perché non pensate a nulla di metafisico o di trascendente l'obiettivo principale preculturale unico e primo della vita è quello di propagare la propria specie se la propria specie scompare tutto il resto scompare se noi scomparissimo che cosa rimarrebbe della cappella sistina della teoria della relatività e dei fratelli Karamazov nulla allora ora che sappiamo l'obiettivo della vita chiediamoci come siamo messi come quando andiamo a fare una gara di salto in alto chiediamo ma più o meno quanto saltano questi qui in media più o meno un metro e settanta lo saltano tutti bene allora chiediamoci ma in media quanto vivono le specie sulla terra quanto vivono lo sapete ne avete un'idea vaga ve lo dico io 5 milioni di anni in media in media in questa media gli animali la buttano parecchio giù perché nelle piante si arriva a centinaia di milioni di anni però direi che ci potremmo accontentare della media quindi io mi accontenterei se vivessimo come specie 5 milioni di anni ora però chiediamoci anche da quanto siamo qua l'homo sapiens sapiens due volte eh da quanto tempo è questo l'homo sapiens sapiens qui da 300.000 anni e tutti i disastri che ha compiuto nel bene e nel male li ha fatti negli ultimi 15.000 quanti di voi pensano che saremo qui fra mille 10.000 100.000 anche un milione di anni bene se noi ci estingueremo fra un milione di anni cosa che io mi augurerei avere un milione di anni ancora e avremmo comunque vissuto una frazione rispetto alla media degli altri esseri viventi in media ci toccano 5 milioni di anni quello che stiamo facendo al pianeta quello che stiamo facendo a noi stessi non permette al momento di fare nessuna previsione così ottimistica ma non milioni neanche migliaia di anni allora da che cosa deriva questa idea di essere meglio degli altri esseri viventi da cosa ve lo ripeto da cosa un albero che era qui prima una specie vivente che era qui prima che l'uomo apparisse sul pianeta e che sarà qui dopo che noi ce ne saremo andati che risate si fa rispetto a noi che siamo meglio io spesso mi immagino un mio collega di alfa centauri che studia la vita di questo pianeta e che studia noi e che vede questa specie apparire di colpo 300.000 anni fa in un batter d'occhio distruggere tutto quello che doveva chiamarsi sapiens sapiens prima e scomparire che risate si fa questo è quello che stiamo facendo vi ripeto da dove deriva il concetto di meglio perché ci sentiamo meglio degli altri esseri viventi non ce n'è alcun motivo allora ciò di cui abbiamo estremamente bisogno è di cominciare tutti tutti e subito a pensare come Torò che gli esseri viventi che ci circondano non sono una cosa da utilizzare ma fanno parte di una rete una rete della vita reale in cui sono tutti necessari non c'è un meglio e un peggio la vita è una rete delicatissima in cui tutte le specie hanno la loro funzione e quando noi ne stiamo l'estinzione la sesta estinzione ciò che sta avvenendo in questi anni a una velocità che non si era mai avuta prima nella storia del pianeta avrà conseguenze che noi non possiamo neanche lontanamente prevedere perché una rete per sua natura unisce tutti allora la questione reale è il nostro cervello così grande che ci ha permesso di di dipingere la cappella sistina di immaginare la teoria della relatività di scrivere i fratelli Caramazzo è realmente un vantaggio evolutivamente o non lo è noi la risposta scientifica non la possiamo dare la daremo fra 4 milioni e 700 mila anni se arriveremo altri 4 milioni e 700 mila anni avremo dimostrato che è diciamo ininfluente siamo nella media se supereremo questi 4 milioni e 700 mila anni avremo dimostrato che il cervello è un vantaggio evolutivo ma al momento ciò che stiamo facendo non sembra dimostrare questo non esiste una sola singola specie neanche le più stupide che distrugga l'ambiente all'interno del quale vive non esiste niente del genere sulla terra noi ci comportiamo veramente dimostrando giorno dopo giorno che il nostro cervello non è un vantaggio evolutivo nonostante questo io sono ottimista a quest'ora della notte diciamo questo ve l'ho detto per svegliarvi nonostante questo sì io sono ottimista io non posso immaginare che il nostro cervello non sia davvero un vantaggio evolutivo io penso ritengo che sia lo sia davvero ma è che la nostra specie è giovane ha soltanto 300 mila anni 300 mila anni sono pochissimi nella storia della vita niente e allora siamo come dei bambini a cui è stato dato uno strumento che non sappiamo ancora utilizzare è come quando a un bambino voi date un martello in mano all'inizio sfascia la casa poi se cresce capirà che con quel martello se ne possono costruire di altri io sono certo che il nostro cervello è un vantaggio evolutivo ma noi lo stiamo utilizzando come un bambino utilizza un martello nella sua casa abbiamo necessità di comprendere immediatamente ciò che Torò aveva già compreso circa due secoli fa e di farlo subito grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.